Io nel mio ruolo non è che posso mettermi a commentare logicamente se è giusto dare una giornata o cinque giornate, adesso sarei un pazzo. Quello che voglio dire è che è sbagliato, che onestamente ci sono delle interpretazioni, ci possono essere degli equivoci, nascono delle polemiche, perché ci dovrebbe essere oggettivamente sempre un criterio, tutto credo che parta però logicamente da quello che non solo è il giudizio arbitrale, che fino a proprio con interesse oggettivo è quello che si scrive nel referto. Era un periodo che nel calcio non c'erano polemiche, ne avevamo bisogno di evitarle e purtroppo invece ci siamo ricascati. Io non posso ovviamente ne parteggiare per una parte o per un'altra, bisogna avere rispetto alle istituzioni, però sicuramente quando ci sono queste polemiche e si dà di queste polemiche è una cosa che onestamente non siamo affatto felici.